benvenuti in un'antibola se no, buona sera questa cosa tra te lo siamo mi prevede certo mi prevede certo mi prevede certo quindi sottotitina un po' allungo capito il mio pijama mi prevede questa è un'antibola che pelle con le pijama e questo è un'antibola che pelle con le pijama bene si stai mancare questo è l'antibola questo è l'antibola è l'antibola una cosa che avrei scendio, però non so di subito e non credo che sia come fosse con i miei capelli quindi io voglio fare un po' di... ah, è un po' di... ho fatto ovviamente un po' di vino e l'altro vino nella volta ecco, questo è un po' di carattere l'altro è una collaborazione con la VU e ancora meglio con la VU un po' più l'azienda da Pai Mar e mia mamma e non era così naturalmente ovviamente l'avevo fatto tutte le cose perchè lo sapete che adoro viventare le cose che volevano soltanto un po' blu non avete niente in testa secondo me io l'ho coltello in po' blu non vediamo se mi scopo è voluto perchè non sto a vedere non c'è niente non c'è niente è troppo carino come facevo alla sorta perchè è tipo però a me è un po' tipo crout drag in realtà si chiama fancy crout si chiama fancy crout ma io lo chiamo crout in drag perchè chiaramente crout in drag si chiama e poi vediamo tutto il resto e poi vediamo che l'urban che si chiama che si chiama che si chiama e anche cominciamo e non si chiama che si chiama non so se vengono molto potete creer che non so se viene bene mentre entrare insola perchè non è troppo carino perchè è più è più stricci senza me e credo che mi importa che sienta non so se viene anche la la palletta perchè quello dopo i questi e quello dopo la concorso praticamente tutto però la cosa che mi piace di più sono i puntini sulle viso capito non so se vengono in questo momento ma sono saccarini magari metto una foto di più quello che non si vengono la marcozza si vengono con una marcozza Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.